È arrivato il gran giorno, quello atteso da migliaia di tifosi che sperano in una vittoria contro i grandi rivali. Riuscirà ad acentrare l'obiettivo? La risposta tra poco, su EA Sports. Immagini in diretta che testimoniano lo spettacolo offerto dalle tribune questa sera. È una notte che potrebbe regalare il sorriso a una parte del pubblico. Un saluto da Pierlu Cipardo e ovviamente da Daniele Adani, Serie A team, che si prende la ribalta con questo incontro. C'è un colpo d'occhio fantastico sulle tribune. I tifosi hanno risposto massicciamente all'appello delle squadre, l'importanza della sfida. Questo ragazzi è un match che stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassionati, ma noi compresi. Le premesse per non annoiarci ci sono tutte. Ora tocca alle due squadre in campo mantenerle. La grafica ci mostra l'undici titolare dei padroni di casa per questo match. Tra i pali c'è Svilar. Dietro giocano Diego Iorente, con Gianluca Mancini al centro. Cristante insieme a Lorenzo Pellegrini nel mezzo. L'attacco è tutto sulla spalla di Romelu Lukaku. Usa bene il corpo per proteggersi. Prova ad andare. Intervento volante. Palla deviata. Pallone ancora lì. 1-0. È la squadra ospite che sblocca il derby. Ha spedito la palla in rete con questa conclusione che stiamo rivedendo. Bellissima. Una volée che non ha lasciato scampo al portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Mancini. Leandro Paredes. Occhio a Lukaku. Paolo Di Bala. La restituisce a Cristante. Bala fermata benissimo dal difensore. Ci sono metri per andare. Tocco per Luiz Alberto. Marosic. Respinge la conclusione. Ecco Lukaku. Entra sul pallone. Può contare sull'aiuto dei compagni. Immobile. C'è la spinta del portiere. Azione che non è finita. La mette in area di rigore. Chiamato in causa bene qui il portiere. Corner da sfruttare se vogliono incrementare il distacco. Occhio al corner. Decisivo qui il portiere. Su questo colpo di testa. Intervento complicato perché in molti qui avrebbero preso gol. Lui no. Casale. Tiro ribattuto. C'è spazio per il contropiede. Ottima visione di gioco qui. Il gol che dà la situazione di parità. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. E poi è riuscito lo stesso a mantere il portiere nonostante fosse pressato. Bravo. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1-1. Cataldi. Marosic. Provano ad affacciarsi davanti. Luiz Alberto. Una grandissima parata questa. Tocco per Felipe Anderson. Ancora il tocco per Felipe Anderson. Un buon tackle. Recupera palla. Felipe Anderson. Possono passare in vantaggio. e c'è la rete. Mettono di nuovo la freccia e tornano a condurre. Hanno verticalizzato la perfezione in occasione del gol. Tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. A tu per tu col portiere lo ha fulminato con una conclusione potente sulla quale l'estremo difensore non ha potuto nulla. Poteva scegliere una soluzione più elegante forse. Sarà per la prossima volta. Dai. Il punteggio adesso è di 2 a 1. Mancini. Pellegrini. Angeligno. Brian Cristante. Bel pallone per Lukaku. Attenzione a Dybala. Protegge palla col fisico. Finisce in questo istante la prima metà di gara. Vedremo cosa ci offrirà al secondo tempo. Ha giocato un buon primo tempo. Ha toccato molti palloni. Può crescere ancora nella ripresa. Un buon primo tempo il suo. Come del resto quello di tutta la squadra. Se continuano su questa strada. Direi che hanno ottime chance. di portare a casa il risultato. Comincia la seconda frazione di gara. ferma l'azione d'attacco degli avversari. Tifosi spingono Lukaku al tiro. Tiro che è stato murato. Grande occasione svanita. Alessio Romagnoli. Alessio Romagnoli. Mancini. Duello tutto di forza. Intercetta bene in zona pericolosa. il tentativo di pressi in qui. Atteggiamento abbastanza passivo adesso. che palla che è riuscito a intercettare. Possibilità di contrapiere. Attenzione. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Nulla da fare. Gendussi. Entra con decisione. Felipe Andersson. Gendussi. Marusic. Riconquistano palla gli avversari. Attenzione al movimento di Dybala. Servito bene qui Lorenzo Pellegrini. Hanno riaperto la partita col gol del pareggio. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio smarcante da cui è scaturito il gol. Poteva fare quello che voleva davanti al portiere. Scavalcarlo con un tocco sotto. Dribblarlo. A girarlo. Alla fine ha deciso di calciare di potenza. Scelta premiata dal gol. 2 a 2. Bella partita. Parità assoluta. Luiz Alberto. Esagera qui e regala la rimessa. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Faraone a Sciaraui. Taglia in mezzo al Sciaraui. Paredes. Intervento puntuale nel portiere che si tuffa e levita il peggio. È il momento del cambio. Cian su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un programma. Attenzione a Dibblarla. Serve il Sciaraui. La mette in aria verso il compagno. Intervento pulito sull'avversario. Recupera palla. Palla che supera la linea. Sarà rimessa laterale. C'è la sostituzione. Gendussi. Manca poco ormai. La situazione rimane di parità. Attenzione a Immobile. Tirone spinto. Awar. Ripartono in campo aperto. Palla profonda da parte di Al-Sharaui. Portiere che risponde qui senza grossi problemi. Ci sarà solo un minuto di recupero. Finisce il match. Parità al termine dei 90 minuti.